Ciao, mi ha avuto questo primo video di oggi. Qui ti parlo del concetto fondamentale del perché e del come. Allora, se tu sai perché componi, troverai un modo come fare le composizioni, sempre. Se tu sai esattamente il perché fai una cosa, tu troverai la forma di fare questa cosa. Sempre, ma sembra una cosa banale quello che dico, ma ti assicuro che a livello di mente inconsciente cambia tutto. Perché se tu sai perché fai una cosa, dentro di te, cioè senti questa cosa, tu troverai sempre il come farla, di perché componi. C'è l'idea, c'è l'idea, perché veramente è la tua passione. Se tu trovi perché componi, allora troverai il come comporre e come migliorarti sempre. Io ti parlo, sui video ti parlerò di teoria, però ricordati sempre che il perché è veramente quello che porta al come. Cioè se tu andiamo a usare la tua passione, troverai il come far rivoluzionare il tuo stile in base a quello che è la tua passione, che è importante e dipende da te. Ciao, prossimo video!